Ciao a tutti ragazzi, un diverso nuovo video, guardate cosa mi aveva fatto Taylor, mi aveva incastrato qua sotto E gli avevo anche dato fuoco alle... oddio, no, andiamo a dormire, Fede Andiamo a dormire Comunque ragazzi, questo episodio è tipo la ottantesima volta che cerchiamo di registrarlo Perché ci continuano a chiamare, mi continuano a chiamare su Skype Esatto, chiamano te, non me Infatti, quindi adesso, grazie a loro, io non accetterò più nessuno sui contatti di Skype Perché se no, è un casino e non riesco a fare le mie cose Comunque Dov'è Fede? Comunque Vabbè a dormire nella camera di Rinnegan, tutta una puttana È un bene breakfast Un bene breakfast Spiegali, aspetta Spiego io per l'ottantesima volta, Fede Oggi andremo a cercare un cavallo per farlo accoppiare a quello finocchio di Taylor Il cavallo faccio Ovviamente scherziamo ragazzi So che adesso ci saranno nei commenti che ho scritto Ma come vi permettete Ma Fede non riesco ad andare avanti? Fede Spiega, vai spiega, spiega Allora praticamente vedete che Rinnegan qui Guarda Fede, Fede, farvi vedere Questo buco qua l'ha fatto Rinnegan perché voleva ingrandire la sua stanza Ha trovato una caverna Vede Fede adesso va in fondo, vai a far vedere il buco Praticamente in quella caverna E me scavando abbiamo fatto un sacco di materiali E in più uscivano i silverfish Che noi chiamavamo Istrice Ragazzi li chiamavano istrice E praticamente Voi ci avete spiegato dei commenti che eravamo vicino a portale dell'end Cos'abbiamo fatto uscire un altro video nel quale appunto troviamo il portale dell'end E il portale dell'end è vicino a casa nostra Anzi è sotto Cioè ragazzi ma che culo hanno avuto perché di solito è impossibile trovare Cioè però sì non siamo entrati Sì ha detto che di avere un sacco di culo a trovarlo effettivamente Andiamo a cercare un cavallo per l'accoppiamento Stai a invidio? Sì bravo Dove sei? Eh sono verso lo spawn Che ho perso Fede? No che parli ragazzi No sta cominciando l'incendio Sai che no? Quando tipo C'è il sole C'è il sole C'è l'incendio no? Cazzo adesso sta Stava prendendo fuoco tutta la foresta Tutta 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 Ma dov'è? Fede dove cazzo sei? Eh sono qua però vedo le fiamme perché Eh il sole Bastardo Sono qua Qua dove? È troppo realistico questo gioco ragazzi Con il sole prende Cioè Ma raccomando Esistono gli incendiosi Sì sì no Ecco vedo l'incendio Arrivo Poi se ti ho trovato Merda Vedi? Cioè non stavo scherzando Eh con le stagioni Del sole Succedono queste cose Anche Anche in Minecraft Guarda qui che incendio Vedi? Sì lo vedo l'incendio gigantesco Ma io non vedo te Vabbè faccio tipi Oh che cazzo Dai vai Tra il trasporto di Termeca Ho paura da solo io Eccoti qua Oddio Ho visto che bello Grosso Che sono Quello mio cavallo Finocchio Dai andiamo Dai Dai cercare un altro cavallo Per l'accoppiamento Ma dove sei? Sto cercando il cavallo Ma non lo trovo Aspetta Vengo da te Che magari da lì ci sono Io sono vicino all'acqua Di solito sono vicino all'acqua I cavalli Dove sei? Ti sei teletrasportato o no? No no ma che mica Mi teletrasporto Perché sono un imbrogliore Ma va fanculo Te le trasportati e bo Vai allora Ah eccoti Oddio sono caduti in una pozza Tanto abbiamo tutte le cose Incentate Trovati? Dove? Che figata Guarda Qui c'è in fondo Ho superato la montagnetta Dov'è che sei? Ma cosa cazzo ne so Sta uscendo anche il buio Nooo Ce ne sono tantissime Eccoti Quelli lì Sono i cavalli Ah no ma Ho capito Ho capito Che cazzo sei tu? Ecco sono qua dietro Io non ti vedo mica Oddio Qual è il più bello? Io mi prendo quello più bello Mi prendo quello brutto Quello nero Prendi quello nero? Eh ma dopo Ma cosa è sta cosa? È strafigo No 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 Tu prendi un cavallo Bastardo Uccide il cavallo Questo qui è bello? Ma si prendi un cazzo di cavallo Questo qui è bello Quello nero lo vuole Rinnegan Il Rinnegan lo vuole bene No Perché sai che Rinnegan piazza il nero E invece la bardatura nera Dopo non si intona Ascolta Disse a me con il cavallo finocchio Dai Cavallo Aspetta Devo dargli Lo zucchero Giusto vai Zucchero Guarda che se mi uccidono zombie Per colpa tua Quanto zucchero sta mangiando? E guarda che mangia tanto zucchero Oddio Ma davvero diventa C'è il diabete C'è il diabete È morto? Ah no Aspettiamo la sella Non posso mettergli la sella Eh aspetta ancora Ma che cazzo di rumore stupido fa sto cavallo Eh vuole lo zucchero Ma io non ce l'ho più lo zucchero Non è più zucchero? Io ho cani da zucchero Aspetta Anche qua ci sono cani da zucchero Oh Grano di merda Prova da Falo mangiare Fino a quando esplode la panza Cioè Eh fatti ma quanto mangi Scusami Eh sta mangiando Mangia 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 Mi ha finito tutto il grano Oh Mettegli la sella Vabbio giusto È giusto è andato Che culo Non posso mettergli la sella Aspetta aspetta ancora Aspetta Continua Continua Metto la bardatura Insisti Insisti Prova a mettere la bardatura Non mi fa neanche me Ecco 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 Ha fatto i cuoricini Ha fatto i cuoricini Ha fatto i cuoricini Bravo Guarda come Eh sì Però non si muove Come non si muove Eh perché mettergli la sella Furbo Eh sì ma non me la fa Che cazzo c'è uno zombie qua vicino Ah sì eccola Oh Vedi qui più mettere la sella adesso Vai Oddio Bardatura in ferro Vai andiamo Yahoo Guarda che figo Eh che figato ragazzi Oddio un enderman No scusa Ma sei stronzo eh Ti ho dato fuoco Nooo ma perché prendo fuoco Ma che stronzo Mi da fuoco un cavallo Ti ho colpito male Scusami Dai dai cavallo Ormai sei arrivato a riva Oh là Perfetti sono a casa adesso Siamo arrivati a casa Almeno io Adesso aspetterò Taylor Sto uscendo di testa Oh io sono tornata a casa Oh che bello Che bello Siamo tornata a casa Adesso gli darò un po' di zucchero Poi adesso vedrò Si sta meglio con la bardatura di ferro O diamanti Più molto è stupido il mio cavallo Oh ma se andiamo nel nether col cavallo Eh Se vabbè figa C'è là il laccio Che laccio Beh io me lo smonto un attimo Il cavallo speriamo che non vada una lana Perché se ne è una lava Perché se ne è proprio stupido Laccetto C'era nel materiali rari Ah si eccolo Adesso mi serve anche lo zucchero giusto Si Mi faccio anche lo zucchero Così a meno Se ne ha mi rompe il mio cavallo Ok legato Perfetto Così non scappo E sta di buono Vediamo Proviamo un po' i suoi outfit Ma c'è Ma cazzo è possibile Dai Come fate soffogati Adesso il mio cavallo Adesso il mio cavallo Ma non ci Tipi Federonzo Adesso ti metto avanti Eh vai a vedere dove sei morto Ma sti feri qua sono orribili Fede Dove sei? Mi stanno colpendo gli zombe Arrivo Ho visto La vedo la casa Vai 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 Eh le luci Oh eccomi 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 Vai grande Ciao Fede Allora adesso si ferma tutto Hai fatto le carote? Vai vai le ho fatte le ho fatte Allora adesso Andiamo a fattare Facciamo di accoppiare di giorno Però che voglio andare a dormire io Guarda Oh mio Dio Oh mio Dio Si stanno Oh Il puletro Questo sarà il cavallo di Rindegan È nero poi Eh? È pure nero No è marrone No c'è le macchie E la mucca Bene il tuo con la barbatura d'oro Ma la mia con l'armatura di diamante È molto più efficace Infatti a te è una ragazza Che cosa? A te è una ragazza Ma dov'è l'altro cavallino? Guarda come lo headshot quello lì Esatto Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Si è messo davanti Ma sei uno stronzo eh Pensa a te Ah qua si è messo davanti Stavo sparando Guarda come lo headshot L'hai ucciso? È certo Ok Adesso facciamogli un recinto Ascolta Sti deficienti qua Aspetta che vado a prendere un po' di legno Non è questo qui il cancello No Questo è un cancello Aspetta dov'è che Ah questo qui ecco L'avevo craftati prima Quindi mettiamo anche il cancello Oh là Che bello Oh perfetto Quindi adesso facciamo Aspetta eh Aspetta che l'entrata la mettiamo illuminata Tac Perfetto Tac Tac Deve essere cazzo di tocciti di merda Ci facciamo una torta? No Una torta Facciamo nel prossimo episodio una torta Quindi ragazzi Spero che questo episodio vi sia piaciuto Siamo usciti nel nostro obiettivo Se finalmente direi Mi sono cazzo di cavalli Mi avrei avuto il cazzo No Ma dai Non sono brutti Cioè andremo Dite Scrivetelci qua sotto Se si può andare nel nether Con Nel Cavallo Secondo me sì Però cazzo da provare Stavre una figata Secondo me Ma vaffanculo Non l'ho stato io È stato un enderman Sì un enderman che spara fuoco Ma vaffanculo ma È stato il ghast Ti non lo ricordi Il ghast E quelli che sparano Vabbè allora ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale di Federonzo Che la stagione continuerà anche sul nostro canale Mi raccomando Quindi andate a vedere anche i loro episodi Ragazzi mi raccomando Ciao a tutti E al prossimo video E vai Bella ragazzi Grazie